Il 14 ottobre 1927, dopo un viaggio piuttosto lungo e travagliato, arrivarono da Boston le ceneri di Bartolomeo Vanzetti e vennero portate più o meno direttamente in questo luogo, il cimitero cittadino. Arrivarono al mattino in stazione, in un contenitore destinato originalmente ai cioccolatini, che conteneva due urne, l'una con la metà delle ceneri di Bartolomeo e l'altra con la metà delle ceneri di Nicola Sacco. Le ceneri di Nicola Sacco, sedute a stante, vennero ricaricate su un altro vagone del treno, accompagnate da due commissari prefettizi e portate, con un viaggio che durò tutta la notte, fino a San Severo in provincia di Foggia. Il giorno successivo, cioè il 15 di ottobre, vennero fatti i funerali di Nicola. Il 14 di ottobre, arrivate le ceneri a Villa Falletto, vennero depositate provvisoriamente all'interno della sala d'aspetto della stazione, poi portate all'esterno, arrivò la sorella di Bartolomeo Luigina, riconobbe l'urna che lei aveva abbracciato per tutto il viaggio da New York a Cherbourg e quindi poco alla volta la gente raggiunse la stazione che era fuori paese e organizzò il funerale. Il funerale arrivò fino in centro, passò dalla casa di Vanzetti. La casa di Vanzetti era esattamente in quella posizione, cioè nella addirittura del campanile del paese e praticamente era confinante. Questi dove siamo noi oggi erano i terreni di proprietà di Vanzetti e dove esiste quel muretto, poco oltre il muretto c'era il vecchio cimitero del paese. Addirittura la gente di Villa Falletto, per recarsi al Campo Santo, cioè dove ci troviamo noi in questo momento, passava attraverso il cortile dei Vanzetti. Quindi il funerale arrivò fin là, fece tappa, poi percorse quello che era il tragitto ufficiale e cioè seguì verso il ponte del Maira, prese la strada di Savigliano e venne avanti fino in questa posizione per poi arrivare al vecchio Campo Santo che è questo. adesso ci apprestiamo ad entrare. In questa zona si crearono o trovarono conclusioni una serie di polemiche precedenti che impedivano in qualche modo o volevano impedire in qualche modo che la metà delle ceneri di Bartolomeo venissero portate all'interno di questo luogo sacro. Si era opposto il parroco di Villa Falletta, si era opposto la curia di Fossano alla quale Villa Falletto fa riferimento e ci fu un altro prelato vaticano che intervenne, il vescovo di Mondovì e insieme fecero in modo di autorizzare che l'urna potesse entrare in Campo Santo. Avevano trovato una soluzione alternativa, quanto strana, quanto anomala, cioè quella di fare un buco nel muro di cinta e poi farla entrare da questo buco e quindi farla comunque in qualche modo arrivare all'interno del Campo Santo. Il Campo Santo di Villa Falletto ricorda molte cose e dà un discorso legato intimamente a Bartolomeo Vanzetti. C'è una storia di una Spoon River che ci racconta della storia di Vanzetti, del suo trascorso Villa Fallettese, del suo trascorso americano e dell'impegno della città per la riabilitazione dello stesso Vanzetti. Una tomba quella di Falcone, i Falcone sono coloro che fin dall'origine della vicenda hanno contribuito attivamente a sostenere la causa grazie anche agli aiuti dati a Luigina Vanzetti e a Vincenzina Vanzetti in momenti difficili, in momenti che hanno vissuto. Il percorso delle ceneri da Boston a Villa Falletto fu particolarmente complesso, innanzitutto perché quando i due anarchici, Nicola Sacchio e Bartolomeo Vanzetti, vennero giustiziati a Charlestown il 23 agosto del 27, la richiesta degli anarchici americani era quella di poter disporre dei loro corpi e di poterli utilizzare per un tour negli Stati Uniti in 200 città statunitensi per farli vedere, farli conoscere e portarli ovunque attraverso ad un canale che era un canale di militanza anarchica e far sì che intorno a questi corpi potesse svilupparsi un principio diciamo rivoluzionario. Lo Stato non glielo concesse e quindi il comitato anarchico cominciò a pensare, a ragionare in funzione non più di portare i corpi ma di portare in giro le ceneri. Senonché le ceneri erano in mano dell'impresario di pompe funebri che aveva organizzato il funerale, cioè Iosef Langone, costui essendo creditore da parte del comitato di circa 800 dollari per il funerale, pensò bene di prendere le cenere e di lasciarle nella sua cassaforte. Capitò che ci fu una mezza rivoluzione da parte degli anarchici e poco alla volta lui si convinse di essere a rischio, che la sua impresa fosse a rischio. Allora li prese e li portò i due contenitori presso la cassaforte di una banca. Trascorse circa un mese prima che questi due contenitori venissero liberati e pertanto anche l'idea di portare le ceneri in giro per gli Stati Uniti venne meno. poniamo l'attenzione su questa tomba che è la tomba di Milone, una famiglia di Villa Falletto vicina ai Vanzetti che aveva anche dei parenti che erano già emigrati negli Stati Uniti e che di tanto in tanto si incontravano negli Stati Uniti con Bartolomeo. Quando le ceneri arrivarono a Villa Falletto mancando i Vanzetti di una tomba di famiglia utilizzarono proprio la tomba dei Miloni, questa tomba per depositare provvisoriamente le ceneri in attesa di poter utilizzare poi alla fine la loro tomba personale. Procediamo con il racconto delle ceneri. Negli Stati Uniti quando il comitato venne in possesso delle ceneri e passò praticamente quasi un mese, fu la fine di settembre rispetto al funerale che si era tenuto il 23 di agosto, si cercò di organizzare immediatamente il viaggio di Luigina in Italia con le due urne delle ceneri di Nicola Sacco e di Bartolomeo Vanzetti. Senonché il comitato decise di conservarne una parte e quindi divise le due urne in altre due parti affinché metà delle ceneri di Sacco rimasero alla moglie, alla vedova e l'altra metà vennero consegnate a Luigina per il rientro in Italia. La seconda metà delle ceneri di Bartolomeo Vanzetti rimasero invece in mano al comitato. Luigina Vanzetti il giorno prima di partire per l'Italia si presentò davanti ad un notaio per un atto ufficiale e impegnò il comitato a fare la sepoltura di queste ceneri nel momento in cui fosse stato possibile, cioè il più presto possibile. E questo è un atto sicuramente singolare che poi documenterà in seguito una serie di cose che non si sono verificate. Comunque Luigina partirà, arriverà in Italia e riuscirà con questo a consegnare le ceneri per il funerale. A Villa Falletto Luigina venne aiutata sin da subito quando lei stessa era in corrispondenza col fratello Bartolomeo da Carlo Vallauri che era un impiegato comunale e che la sua salma è sepolta in questa tomba. Sempre a Villa Falletto un amico, compagno di scuola di Bartolomeo, era Dino Soma, il quale era uno scultore che aveva studio in Torino e che Bartolomeo riconosce intelligentemente in una cartolina che gli viene mandata dalla sorella che mostra il ponte sul Maira e dice quel signore che c'è sul ponte sul Maira è il mio amico Dino Soma. Dino Soma era uno scultore ed è colui che provvederà a consegnare a Luigina Vanzetti il progetto di una tomba dedicata a Bartolomeo con tanto di scultura. La storia delle ceneri di Sacco fu non molto dissimile con la differenza che la parte che rimase a Boston fu la parte che venne consegnata alla vedova, la quale vedova dopo breve si risposò e mantenne queste ceneri in un garage, in un baule dentro il garage. C'è la testimonianza del nipote Spencer il quale a un certo punto prende in mano questa urna con le ceneri e chiede alla nonna, dice cos'è, lei dice quello è tuo nonno e tuo nonno sono le ceneri di tua nonna. Di queste ceneri non si conosce più praticamente nulla. Qui incontriamo un'altra tomba che è interessante ed è di Elisio Caldera che è stato il figlio di quel Giacomo Caldera che per primo ospitò a New York Bartolomeo Vanzetti il primo giorno del suo arrivo negli Stati Uniti. Quasi centenario è stato un ottimo testimone anche perché lui pur se giovanissimo ha vissuto in forma diretta la storia della sofferenza della famiglia Vanzetti. Ed è stato un ottimo testimone per il racconto che ha fatto su Vanzetti e sulla famiglia sua, cioè suo padre Giacomo che è morto poi qui. Qui abbiamo un'altra tomba sempre del Caldera e lassù in alto troviamo la presenza di Francesco Caldera che era lo zio di Elisio e fratello di Giacomo il quale fu colui che rimase a lungo negli Stati Uniti e fu il primo tramite lettera a comunicare alcuni giorni dopo l'arresto di Bartolomeo a comunicare e dare la notizia alla famiglia. Proseguendo si incontra in questo lato del nuovo Camposanto di Villa Falletto costruito tra l'altro su terreni che erano di proprietà dei Vanzetti un'altra tomba che è quella del Mondino e che riguarda le cugine di Bartolomeo che sono queste tre. Lui presta attenzione a queste cugine e dedica loro anche alcune lettere che invia durante il suo periodo di carcerazione a Charlestown. Su questa tomba invece abbiamo da segnalare il fatto che qui siano sepolti Giacomo Caldera che è il figlio di Elisio di cui vi abbiamo parlato prima e che è colui che ha ospitato Bartolomeo i primi giorni a New York. Era uno chef di club esclusivi di New York, era benestante e aveva praticamente lui stesso convinto Bartolomeo ad andare negli Stati Uniti quando lui era tornato a Villa Falletto per sposarsi con Adelaide Carano ed era questo il 1908, l'anno cioè di partenza di Bartolomeo. Bartolomeo nel 7 gli muore la mamma, è sofferente e quindi incontra questo amico che abita dall'altra parte della strada di casa sua che lo convince in qualche modo ad andare negli Stati Uniti che può essere, lui dice, una soluzione per i problemi che sta attraversando in quel momento Bartolomeo. Qui abbiamo un'accelerata, questo è il nuovo impianto cimiteriale di Villa Falletto che si capisce dalla tipologia delle tombe, laggiù in fondo abbiamo una tomba che è quella di Isaia Pietro Isaia è colui che riceve numerose lettere da Bartolomeo che continua a scriverli perché era un amico di infanzia ed è colui che aiuta personalmente Luigina nel momento in cui deve occuparsi del rientro delle ceneri per le pratiche a Torino e anche altrove. È un impegno notevole che ha e lo si riconosce perché ad un certo punto è presente anche in una fotografia insieme i fratelli Ramonda di Costigliole che conservano, dispongono il contenitore che ospiterà poi le ceneri da sistemarsi nella tomba qui di Villa Falletto. Diciamo che la storia di Bartolomeo nasce nel 1908 quando parte per gli Stati Uniti, quella di Nicola Sacco nasce nel 1909 quando parte anche lui col fratello Sabino per gli Stati Uniti. Non si conoscono quando sono negli Stati Uniti, Bartolomeo Vanzetti gira in largo e in lungo per un bel po' di anni prima di trovare la definitiva sistemazione a Plymouth dove va a lavorare nella fabbrica delle corde. Mentre invece Sacco è già destinato a Milford fin dalla partenza perché il padre scrive ad un amico che abita in un paese vicino, a certo calzone e questo amico che è anche il padrino di Sabino Sacco e questo amico li ospita a casa loro e riesce ad organizzarli fin da subito il lavoro in questa città. Quindi sono due storie diverse. Sacco si sposa, Vanzetti non si sposa, si incrociano dopo un bel po' di anni su un giornale con la loro firma che accompagna un articolo e accompagna una donazione di denaro e la loro storia da quel momento viaggia in contemporanea sino al 1917 quando entrambi si risolvono con altri anarchici di raggiungere il Messico durante l'entrata in guerra degli Stati Uniti insieme alla triplice europea. Quando rientrano entrambi dalla fuga messicana sono praticamente nella condizione di cambiare il loro nome e cognome e per un attimo sono vivono nell'anonimato. Poi riprendono le loro storie. Nicola Sacco che di nome faceva Ferdinando, mantiene il nome che si era dato in Messico, si congiunge con la famiglia a un bambino in procinto di averlo nato quando succedono due rapine, una alla vigilia di Natale del 19 e l'altra il 15 di aprile del 20. La prima è un'attentata rapina a Breezewater che fallisce, la seconda a Sud Braintree invece va a buon fine per i banditi e vengono arrestati per questa rapina Sacco e Vanzetti e mentre riescono a cavarsela. Successivo processo per queste due rapine vede nella prima Bartolomeo di fronte al tribunale di Plymouth che seppure non esistano prove assolutamente a carico suo e tutto quello che viene fuori è inventato, compresa l'ipotesi che lui sia l'autore riconosciuto perché correva come un italiano, ebbene viene condannato a 12 a 15 anni di carcere per una tentata rapina, cose mai successe negli Stati Uniti. La seconda rapina invece col processo dell'anno successivo ad Edam, sia l'uno che l'altro vengono riconosciuti colpevoli nonostante abbiano entrambi una valanga di testimoni che danno ragione alla loro assenza della rapina e presenza in altri luoghi. Di lì comincia una lunga battaglia processuale che dura sei anni, più quello precedente fa sette, che vedrà una serie di avvocati autorevoli, autorevolissimi americani e bostoniani a sostenere la causa di Saccovanzetti contro un giudice Tayer in carta pecorito, vecchio tradizionalista bacchettone e un avvocato dell'accusa, la pubblica accusa, Kassman, che a tutti i costi voleva vincere questa causa anche a costo di modificare le prove. Ciò riesce, il primo avvocato Moore viene sostituito da un secondo avvocato, un principe del foro di Boston, Thompson, il quale non essendo schierato politicamente si occupa esclusivamente di seguire la causa dal punto di vista giudiziario. Porta una valanga di prove, fa otto ricorsi e questi ricorsi purtroppo, nonostante arrivino nelle mani della Corte Suprema e quindi riguardino un livello superiore rispetto al Tribunale, non vengono riconosciuti utili per rifare il processo. Fino all'ultimo è quello più importante perché addirittura grazie ad una testimonianza di un portoricano, Celestino Maderos, che in carcere lascia un foglietto a sacco in cui dice io so chi ha compiuto la rapina e poi di fronte al giudice si autoaccusa di questa rapina, ma lui è già purtroppo condannato per un'altra rapina, anche questa sua testimonianza con i nomi di tutti coloro che erano con lui e che erano una banda, la banda Morelli, una banda di italiani che rubava soprattutto nei vagoni farroviari, ebbene non viene riconosciuta e quindi loro il 23 agosto del 27 vengono mandati sulla sedia elettrica. Il mondo esplode perché la causa ormai non interessa solo più Boston, Massachusetts e gli Stati Uniti, ma interessa tutto il mondo, ci sono autorevolissime persone da ogni dove che si occupano di loro, che scrivono di loro, che manifestano per loro, che mandano petizioni. Il governatore Fuller riceve centinaia di migliaia di telegrammi di lettere che non osservano eppure, alla fine nulla serve anche che Luigina parte da Villa Falletto e vada a Boston a parorare la causa del fratello e che anche la moglie di Sacco, insieme a Luigina, si presentino e vadano dal governatore stesso a chiedere la grazia per i loro cari. C'è l'esecuzione, ci sono i funerali, lo Stato impone che tutti i filmati che riguardano il caso vengano requisiti e vengano bruciati, si salva soltanto quello del funerale che viene fatto di nascosto grazie all'impegno del comitato di difesa Sacco e Vanzetti e praticamente la storia di allora finisce a quel punto per continuare poi con una battaglia che va oltre, che va verso la riabilitazione, che tenta di aprire nuove strade, nuove porte, ci sono attori, artisti, scrittori, c'è il mondo intero che si occupa, politici, antropologi che si occupano del caso Sacco e Vanzetti, riuscendo a mettere insieme un totale di oltre 500 volumi e ad organizzare dal 1927 ad oggi un'infinità di manifestazioni in tutto il mondo, migliaia, migliaia, migliaia. La tomba finale di Bartolomeo Vanzetti, che all'epoca del suo trasporto della metà delle ceneri non era ancora stata costruita, viene poi costruita ed è questa. In questa tomba sono ospitati il papà Vanzetti Giovanni Battista, originario di Savigliano come le sorelle. La famiglia Vanzetti era originaria di Virle, una famiglia benestante, che ha vissuto a Virle per due secoli almeno. Poi il nonno Bartolomeo fu il primo a lasciare la famiglia e ad occuparsi di mezzadria, quindi lavorava in campagna. A Savigliano erano responsabili di una grossa cascina e lì nacque appunto Giovanni Battista. Da Savigliano si trasferirono a Centallo, poi la mamma, cioè la nonna, acquisì per via ereditaria una casa a Villa Falletto, che è la casa di proprietà della famiglia dove nacque Bartolomeo, più i terreni che sono i terreni dove sorsa anche il Camposanto e loro vennero a trasferirsi in Villa Falletto. Giovanni Battista già negli anni Ottanta partì per la California, vi rimande tre anni, quando rientrò si sposò con Giovanna Nivello, che era una signora che si era già sposata a Tarantasca e poi a Dronero con il macellaio di Dronero e aveva già avuto un figlio. Il papà non riconobbe il figlio e quindi la sposò portandola a Villa Falletto e nacque Bartolomeo nel 1889, per inciso Nicola Sacco nacque nel 1891, poi via via nacquero la sorella Luisina, che fu quella che nel 1927 raggiunse gli Stati Uniti, poi nacque la sorella Vincenzina, che fu quella che a partire dagli anni 50 con la morte di Luisina seguì la questione del fratello e si adoperò in tutti i modi per ottenere la riabilitazione postumo. Poi nacque un altro bimbo che nacque morto e poi infine Ettore che morì a Torino. Di tutti i figli di Ettore c'è Roberto che è già mancato e c'è Giovanni che è l'ultimo della famiglia che è in vita. Nell'elenco delle persone legate alla famiglia Vanzetti ci sono anche le zie che sono Edvige e sono Maddalena, che sono le zie insieme a Francesca che è seppellita altrove, che sono le zie con le quali Vanzetti aveva la sua corrispondenza negli Stati Uniti. Per chiudere, leggera chiosa, serve ricordare Caterina Caldera che è stata la donna, l'amica, la cugina che praticamente ha vissuto per buona parte della sua esistenza insieme a Vincenzina seguendola nella sua battaglia per la riabilitazione. Sempre Caterina seguì Vincenzina nel 1979 quando si recarono entrambe a Boston per la consegna del materiale, del comitato di difesa che era rimasto in mano di Dino Felicani, da parte dei suoi figli, alla Public Library di Boston e per l'organizzazione di un importante convegno che, primo fra tutti, dava seguito alla storia di Ciacco Vanzetti, chiudendo il capitolo che in qualche modo era stato riaperto nel 1977 dal governatore Michael Dukakis che aveva destinato un giorno dedicandolo a Ciacco Vanzetti Day. Grazie a tutti.